Siccome dal 2008 faccio parte della società d'Elmo, Presidente, questi eventi di Soffra particolarmente, il Fulman è una maniera completamente tremenda. Confermo che il Presidente soffre il Fulman. Io ho visto il Presidente salire da una macchina, personalmente il Presidente Campitelli, prendere posto a fianco a Elpole Cimini, al nostro Vicepresidente. Pianto del Signore Eccolo Cimini, a bordo della autentura Mercedes, proprietà dello stesso Cimini. Sì, perfetto. Sì. Confermo inoltre che la Mercedes si accodò dietro al Fulman della squadra, raggiungendo lo stadio, come già detto, verso le 13. Sì, all'incirca si è pagata. Quindi lei può escludere, non è capitolato, ma può escludere che ci siano state soste, delle azioni? Assolutamente, non ci siamo messi in base. Non ci siamo messi in base. Non ci siamo messi in base. La domanda? Il Fulman non si è... Ma se l'hai fermato, lei ha eseguito deviazioni della sonda al percorso, al percorso arezzato, state di Salora. E quindi può dire, per essere, per averlo constatato personalmente, che anche l'autovettura... Sì, era dietro di voi. Anche l'autovettura... Era dietro di voi. È rimasta sempre dietro di voi. Sì, assolutamente sempre. Allora, ci sono domande del Procura?